Il versetto numero 61 dice se nel cammino il ricercatore non trova un compagno di viaggio superiore a lui o almeno uguale a lui, continui da solo perché non c'è comunione con uno stolto. Cioè questo vuol dire che se io nel mio cammino trovo qualcuno che è pari a me ma è anche superiore a me, continuo a percorrere questo cammino perché in sua compagnia avrò dei benefici, cioè lui non lo incontra lo stolto perché lo stolto non ce l'ha di fianco. Quindi questo è importante perché la persona che è superiore a noi o che è uguale a noi può anche essere in grado di darci le indicazioni e di esserci di aiuto nei momenti di grande difficoltà. Nei 50 versi di devozione al guru gli amici spirituali sono proprio quelli che con il loro consiglio ci sostengono e quindi ci sostengono nella vita ordinaria ma anche sulla via della liberazione. Quindi il concetto di questo principio, di questo versetto è che la buona compagnia ci aiuta a crescere. Quindi se noi siamo in buona compagnia miglioreremo sempre di più. Quindi se l'altro ha gli stessi obiettivi nostri, ha la stessa energia, impiega la stessa energia nel percorso e naturalmente si comporta bene, allora a questo punto diventa anche un esempio per noi, diventa non soltanto un supporto ma una dimostrazione di come un certo comportamento possa dare dei buoni frutti. Quindi questo è il minimo che possiamo fare, stare con quelli che sono come noi e che hanno i nostri obiettivi e che hanno le nostre qualità, ma certamente sarebbe ancora meglio frequentare delle persone che sono superiori a noi perché queste persone possono insegnarci molto. Quindi il compagno di viaggio, il membro del sangue che ci aiuta a fare un percorso insieme è senz'altro molto utile e direi che fa parte proprio della nostra pratica quotidiana. quando noi entriamo nei centri, incontriamo membri del sangue, i quali hanno già fatto un percorso e ci possono dare delle indicazioni. È ovvio che se facciamo riferimento al maestro e ci atteniamo a quello che lui ci indica e siamo legati a lui, direi che possiamo ottenere dei risultati migliori. In ogni caso è chiaro che se ci affidassimo a uno stolto, insomma, questo qua al posto di farti crescere spiritualmente ci porterebbe fuori strada e quindi il versetto ci dice piuttosto che frequentare uno stolto che ti porta fuori strada, cammina da solo. Cerca delle buone compagnie, cerca delle compagnie che ti siano anche superiori ma che devono di crescere ma non ti perdere con chi ti affonda e quindi questo è il principio. Grazie. 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 Grazie.